Buongiorno a tutti in questa nuova recensione oggi faremo un unboxing questo è un unboxing perchè ripare le recensioni che faremo sulla e cominciamo cogliamo il metrogen adapter di Genesis poi l'AD adapter dei giochi del Game Boy Advance ora vediamo il Superboy che è la console portatica del Ness ora questo è il convertitore che converte latina americana in inglese poi ci metterò quella inglese italiana poi alcuni giochini del Genesis per fare la recensione un giochino versione americana dello SNES e infine il fc mobile 2 per la console Ness portatile ok il riveditore che mi ha dato è questo riveditotowers.co.uk e questo che questo unboxing è tutto e ci vediamo più tardi per le recensioni di lingue a dopo 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 a dopo